Paolo De Castro, Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. Cos'è il trattato di libero scambio tra Stati Uniti e Unione Europea? Il trattato di libero scambio è quello che l'Unione Europea porta avanti con singoli paesi che sono le cosiddette relazioni bilaterali che definiscono una serie di accordi sulle barriere tariffarie, non tariffarie, contingenti di importazioni. Naturalmente il negoziato commerciale con gli Stati Uniti assume un rilievo particolare perché l'ammontare complessivo del commercio internazionale tra Stati Uniti e Unione Europea rappresenta circa un terzo dell'intero commercio mondiale. Cioè stiamo parlando di una dimensione di interscambio economico di beni e servizi per oltre 500 miliardi di euro all'anno. Ma senta, ma quali sono i vantaggi per l'Italia di un trattato di questo tipo? Beh, dobbiamo ricordare innanzitutto che l'Italia è un attore importante nel mercato degli Stati Uniti. È un mercato che vede le esportazioni europee superare le importazioni dagli Stati Uniti in Europa. Noi esportiamo circa 15 miliardi di euro di prodotti agricoli alimentari e importiamo circa 9 miliardi di euro di prodotti agricoli alimentari. Quindi abbiamo una bilancia commerciale Europa-Stati Uniti per il settore agricolo alimentare che è assolutamente positiva per l'Europa di circa 6 miliardi di euro all'anno. È positiva complessivamente per l'intero interscambio, per parecchi miliardi di euro, ma in particolare per l'ago alimentare stiamo parlando di un interesse importante. L'Italia è un protagonista delle esportazioni degli Stati Uniti, sicuramente dal punto di vista, per esempio, di alcune importanti produzioni come il vino. L'Italia è dopo l'Europa e gli Stati Uniti rappresentano per l'Italia il secondo mercato di esportazioni. Ci sono altre produzioni, formaggi, industria salumiera, prodotti da forno, pasta, conserve. Quindi diciamo che il mercato degli Stati Uniti è il più importante mercato di sbocco delle nostre esportazioni dopo l'Europa. Se noi guardassimo alle limitazioni sanitarie, alle barriere, alle quote, se potessimo attraverso questo negoziato commerciale liberalizzare di più il mercato americano, certamente questo si potrebbe tradurre in svariate decine, forse centinaia di milioni di euro di esportazioni italiane in più. Ci sono dei capitoli delicati per quanto riguarda i produttori italiani? C'è una preoccupazione della tenuta dell'impianto normativo di maggiore qualità, di maggiori garanzie, di tracciabilità che hanno le produzioni europee. Non vogliamo arretrare dal punto di vista delle norme, per esempio, sugli OGM, sulla carne clonata, sugli ormoni. Nello stesso tempo però bisogna tener conto che accanto a queste preoccupazioni ci sono certamente molte opportunità. Quindi il trade-off è quello di trovare un punto di equilibrio tra, per esempio, eliminare la limitazione a tutte le produzioni che hanno una indicazione geografica, penso alle denominazioni d'origine, penso ai nostri Parmigiano Reggiano, al nostro Grana Padano, al nostro Gorgonzola, Montasio, Asiago, Piave, sono tutte le nostre produzioni di formaggi DOP, come anche le nostre produzioni di oli extravergine di Alivia DOP, tutti i prodotti che non hanno, o i prosciutti, non hanno alcuna protezione degli Stati Uniti. Quindi abbiamo una quantità enorme di prodotti copiati e se non troviamo un accordo all'interno del negoziato commerciale non c'è nessuna possibilità di proteggerli. Alcune associazioni ambientaliste hanno parlato di questo trattato come di un grosso rischio per quanto riguarda gli standard ambientali, ma anche per quanto riguarda il benessere dei consumatori. Le norme che noi abbiamo sulla tracciabilità, sui controlli degli alimenti, sulle norme per il benessere degli animali, sulle norme di maggiori garanzie rispetto agli americani che abbiamo su tutti gli standard qualitativi, non sono messe in discussione dal trattato e non devono essere messe in discussione dal trattato. Ciò non toglie che evidentemente non fare il negoziato ha un costo. Ha un costo, quindi noi dobbiamo tener conto che è una grande opportunità, ma deve essere un'opportunità gestita con molta attenzione. Da questo punto di vista il Parlamento europeo ha un ruolo molto importante. Questa volta ricordiamo che il trattato di Lisbona dà al Parlamento la possibilità di esprimere un voto positivo o negativo su un accordo commerciale, quindi noi possiamo bocciare l'accordo commerciale. Abbiamo il potere di veto come Parlamento europeo, sono legittime le preoccupazioni dell'associazione ambientalista ma non devono trasformarsi in un blocco, a mio avviso, all'accordo. Chi è che sta negoziando con gli Stati Uniti d'America? I negoziati sono portati avanti, i negoziatori sono la Commissione, il governo europeo, quindi è il commissario al commercio che con i suoi funzionali della direzione generale trade negozia, c'è in questo momento a capo del negoziato un direttore della Digitrade che se ne occupa, che riferisce in Parlamento perché spesso viene invitato proprio per mettere in evidenza i passi avanti che il negoziato realizza mano a mano che ci sono le riunioni a Washington e a Bruxelles. Lei ha da poco incontrato il segretario di Stato americano responsabile all'agricoltura, cosa vi siete detti, cosa è emerso da questo incontro? Ci siamo detti che è importante che ci sia partecipazione e discussione democratica sul trattato, su quello che potrà essere un domani, nei prossimi anni, un eventuale accordo commerciale con gli Stati Uniti e l'Europa. Quindi massima trasparenza e massima partecipazione agli Stati di avanzamento, ma però anche, e questo è importante dirlo, soprattutto in questa fase che è una fase di inizio del negoziato, il negoziato durerà anni, non stiamo parlando di una cosa che finisce la settimana prossima, è importante che si parta da un framework comune, questo è quello che ci siamo detti con Tom Bilsack, cioè non partire subito dalle linee rosse, l'Europa non vuole andare oltre questo, gli Stati Uniti non vogliono andare oltre quest'altro, che evidentemente ci sono, ci sono per l'Europa come ci sono per gli Stati Uniti. È evidente che dobbiamo partire da lì con gli americani per capire come questo negoziato commerciale tra la più importante area di esportazione di prodotti agricoli al mondo e una delle più importanti aree di importazione di materie prime che è l'Europa, come affrontano questo tema della sostenibilità delle risorse, come risponderemo insieme a questa grande domanda di cibo del futuro rispetto al tema per esempio della sostenibilità, della gestione delle risorse, dell'engrabbing di questa corsa alla terra che si sta manifestando proprio per le preoccupazioni della domanda futura, diciamo di fronte a tutti questi interrogativi di cui tra l'altro l'Italia ha la responsabilità perché questo è il tema dell'Expo, il tema di Expo 2015 è questo, e di fronte a queste grandi responsabilità credo che questo negoziato deve fornire alcune, se non delle risposte, almeno alcune delle domande chiare sul futuro. I tempi sono lunghi però quando è più o meno che si potrebbe avere qualcosa di definitivo? Non prima di due anni, teniamo conto che ci sarà un'accelerazione nei prossimi mesi e questa accelerazione nei prossimi mesi è dovuta al fatto che o si avanza in maniera importante in questi prossimi 6-7 mesi, quindi proprio sotto presidenza italiana, oppure dopo si entra nell'anno finale dell'amministrazione Obama, per cui poi non ci potrà essere alcun negoziato vero perché saremo in presenza di un'amministrazione in scadenza. Quindi direi un paio d'anni, ma i prossimi 7-8 mesi, il prossimo anno sarà veramente molto importante.